Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Ragazzi, vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che è uscito il mio shop. Alcuni di voi mi hanno già chiesto, scusami Silvia, non capisco, ma vendi maglia dei serial? Non solo, non solo, andate a dare un'occhiata, il link è nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Oggi voglio parlarvi di un caso che qualcuna di voi mi ha richiesto tra i commenti di un mio video precedente. Il caso che vi voglio portare oggi è interessante per diversi punti di vista. C'è la depressione, c'è il suicidio, ci sono fantasie macabre e oscure, ma soprattutto c'è vendetta, tanta vendetta. Ma, come al solito, andiamo con ordine. Amanda Taylor ha 23 anni e vive a Christiansburg, in Virginia, con suo marito, il 25enne Rex Taylor. I due stanno insieme da più di 9 anni e hanno già due figli, Damien, di 7 anni, e Delia, di 17 mesi. Amanda e Rex si sono conosciuti e innamorati in terza media. Entrambi i ragazzi, però, avevano dei lati oscuri, fin da giovanissimi. Amanda, nel 2003, viveva in Florida e abitava con sua madre, che si era presa cura di lei fino ai suoi 11 anni. Il padre, la ragazza, non l'aveva neanche mai conosciuto. La madre di Amanda, Maranda Light, però, aveva dei seri problemi con l'alcol. Di conseguenza non riusciva a stare dietro a sua figlia e suo fratello Matthew si era messo in mezzo, dicendo chiaramente a sua sorella, che non riusciva neanche a prendersi cura di se stessa, come poteva prendersi cura di una ragazzina di 11 anni. Matthew era dovuto intervenire e aveva dunque deciso di portare Amanda con sé, in Virginia. Amanda, dunque, si trasferisce dalla Florida alla Virginia e inizia una nuova vita con suo zio. Per Amanda, suo zio Matthew rappresenta l'unica figura paterna che abbia mai avuto in tutta l'adolescenza. Amanda, nonostante il trasferimento drastico, si adatta facilmente nella nuova casa, conosce ben presto nuovi amici e, in terza media, conosce Rex Taylor. Rex è un ragazzo intelligente, è divertente, ma, quando arriva in prima superiore, all'età di 14 anni, inizia a sentirsi incredibilmente triste. Non capisce cosa gli prenda, semplicemente vive dei periodi in cui è sereno e tranquillo per poi cadere nel baratro più totale. Si sente triste, apatico, di colpo non ha più voglia di fare nulla. Rex non sa con che confidarsi, si vergogna, non è solito parlare di queste cose con suo padre. E non vive con sua madre, Melissa, perché i suoi genitori sono divorziati. Quindi Rex inizia a parlare e a confidarsi con lo psicologo della scuola e con la sua nuova fidanzata. Quella ragazza gli ha rubato totalmente il cuore. Si chiama Amanda. Sono addirittura nati lo stesso giorno, anche se in anni diversi, il 27 marzo. Lo psicologo della scuola si rende ben presto conto che c'è qualcosa che non va. Rex non sta semplicemente attraversando una fase critica come può capitare a diversi adolescenti. Non si sente un outsider, non è emarginato, non riceve bullismo. Di conseguenza non dovrebbe avere motivo per essere triste, giù di morale, apatico. Appresi questi fatti, la scuola non può far altro che avvisare il padre di Rex, Charles, che di conseguenza lo porta da uno psicologo. Rex ha soli 15 anni, deve già lottare contro la depressione. Le medicine lo intontiscono, talvolta non fanno effetto. Ma ormai Rex si è abituato a vivere in questo modo la sua vita. Spesso è giù di morale, ma è vicino a Amanda, che ama tantissimo. Dovete sapere che Amanda è amante dei film horror, così come Rex. Infatti i due inizialmente guardano dei film spaventosi insieme. Inoltre Rex inizia a visitare dei forum online non troppo belli, in cui postano foto parecchio esplicite di ferite evidenti, sangue, pose, e chi più ne ha, più ne metta. In tutto questo Amanda prende il modo di fare di Rex come un gioco. È troppo piccolina per capire cosa stia succedendo realmente a Rex. E in effetti Rex è molto brava a mascherare la sua sofferenza. D'altro canto Amanda crede che lui le invii foto sempre più pesanti per tentare di spaventarla. Ecco perché, come già vi ho detto, prende la situazione come un gioco, anzi, come una sfida. Amanda di certo non si lascia intimidire, e di conseguenza inizia ben presto anche lei a navigare su internet per cercare materiale di tal tipo. Passa del tempo, ma Rex pare non star bene. Qualche mese dopo, suo padre, Charles, fa un incidente a lavoro. Gli vengono dunque prescritti degli antidolorifici oppiacei. Purtroppo Rex inizia a diventare dipendente dall'alcol e dai farmaci fin dalla giovane età, perché suo padre, nel tentativo di farlo stare meglio, gli offre le sue pillole di ossicodore e della vodka. Rex si rende conto che, quando assume quelle pillole, si sente leggero. La sua testa inizia a farsi leggera, ha la sensazione di fluttuare nell'aria. Ma soprattutto, la tristezza sparisce, non la sente più. Rex si sente libero. Ma questa libertà, ahimè, ha un prezzo ben preciso, perché, come è ovvio che sia, Rex sviluppa una dipendenza da oppiacei. Il problema si ingrandisce nel momento in cui Charles, il padre di Rex, diventa il suo fornitore. È lui che gliele procura queste pasticche. Rex non deve mai cercare pasticche per strada, non va mai in astinenza. Anche perché Charles, a sua volta, si sta prendendo cura di suo padre, ossia del nonno di Rex, un uomo di nome Alan. Anche Alan assume antidolorifici oppiacei. In poche parole, quella casa è una farmacia, e Rex può prendere i prodotti di quella farmacia, quando più preferisce, senza neanche dover chiedere il permesso. E, attenzione, se Rex le pillole le chiede, il padre non si tira indietro e, ahimè, dà al figlio le pasticche. Poi, ecco che accade qualcosa che scombussola di nuovo la vita di Rex e Amanda. In quanto, Amanda resta incinta. Amanda ama Rex. Sì, è giovane, ma è sicura di voler crescere suo figlio, sebbene sia solo al secondo anno di superiori. Lo zio di Amanda, Matthew, è molto preoccupato, però, tutto sommato, Amanda e Rex si impegnano per chiedere meno soldi possibile ai loro genitori. Insomma, cercano di non far pesare alle loro famiglie questa situazione. Passano dunque nove mesi e il bambino nasce. Amanda e Rex adorano il loro bambino, che di nome fa Damien. Lo crescono con amore, fanno tanti sacrifici e, dopo anni interi, riescono finalmente a prendere una casa in affitto tutta per loro. La domanda a questo punto sorge spontanea. Rex aveva dei problemi, no? Soffriva di depressione? Aveva una dipendenza? Tutte queste cose sono svanite nel nulla? Beh, no, non è proprio così. Rex, in questo periodo, ha chiaramente degli alti e dei bassi, ma non passa più le sue giornate ad assumere pillole e alcol. Pare anche che la sua depressione vada meglio, il che è paradossale. Viste le responsabilità che si è ritrovato sulle spalle alla sola età di 16 anni, è diventato padre a 16 anni. Ma facciamo un bel balzo in avanti. Arriviamo a marzo 2014. Amanda e Rex vivono insieme da otto anni. Ed è a questo punto che la depressione di Rex rincomincia a farsi sentire. Rex, ahimè, ricade nelle brutte e vecchie abitudini. E il suo fornitore è sempre suo padre. Arriva a prendere pillole tutto il giorno, tutti i giorni. Oppure beve. Beve tanto. Troppo. Passa il tempo e Amanda, inizialmente, cerca di andare incontro ai disagi di suo marito. Prima era troppo piccola, ora però sa benissimo cosa sia la depressione. Quindi, in qualche modo, capisce il motivo per cui Rex è attratto da quelle pillole. Amanda, quindi, cerca di essere comprensiva. Però, dopo un po', è inevitabile. Inizia a lamentarsi. E quindi, iniziano anche i litigi. Rex è sempre più intontito. Non si preoccupa più dei suoi figli. Non si preoccupa più di Amanda. E inizia a isolarsi. Ogni giorno, sempre di più. Col tempo, ovviamente, i litigi sono sempre più pesanti. Quindi, Rex promette ad Amanda di darci un taglio con gli antidolorifici e con l'alcol. Il punto è che non ci riesce. Oramai è totalmente dipendente. Rex dovrebbe andare in riabilitazione. Amanda arriva ad un punto in cui non sa più cosa fare con Rex. Non sa più come prenderlo. In quanto, se gli consiglia di andare da un medico, lui le urla in faccia. Le dice che tanto non serve a niente, che quei farmaci lo rincoglioniscono e basta. Amanda, giustamente, gli risponde che non fa altro che prendere farmaci. Dannazione, è già perennemente rincoglionito. Rex, a questo punto, si arrabbia ancora di più. La sua vita oramai è formata solo da tristezza e da rabbia. Amanda, dunque, si ritrova a dover prendere una decisione davvero, davvero drastica. Decide di concentrarsi sui suoi figli. Fa le valigie. E va da sua madre. Che nel frattempo si è rimessa in sesto. Non beve più. Si è disintossicata. E si è trasferita dalla Florida alla Virginia per poter stare più vicina a sua figlia. Rex, dunque, dopo anni, si ritrova solo. Amanda, di certo, non è felice di averlo lasciato. È innamorata di lui. Però, in questo periodo, finge di essere felice. Principalmente per i suoi bambini. Arriva il 28 agosto del 2014. E Damien compie otto anni. Per la sua festa di compleanno sono stati invitati tutti. Rex compreso. Alla festa è anche presente la madre di Rex. Melissa. Il ragazzo, però, non si fa vivo. Sua madre è molto preoccupata. Sa che Rex non sta passando un bel periodo. Ma non avrebbe mai dimenticato la festa di compleanno di suo figlio. La donna, dunque, prova a chiamarlo. Ma Rex non risponde. Melissa è sempre piena ansia. Di conseguenza si mette in macchina. Proprio per andare a vedere come stia Rex. Melissa ha già una bruttissima sensazione. Dopo l'allontanamento di Amanda, Rex è tornato a vivere con suo padre, a Ellet. Sempre in Virginia. Melissa, quindi, arriva a casa del padre di Rex, Charlie. E nota il suo capanno degli attrezzi aperto. Si dirige dunque verso quel capanno. Apre, vede tutto la porta. E, in effetti, Rex è in quel capanno degli attrezzi. Sua madre, Melissa, lo trova impiccato a soffitto. Amanda, quando lo viene a sapere, è distrutta. Piange senza sosta. Non riesce a fermarsi. Una parte di lei è morta insieme a Rex. Il problema è che per Amanda, la morte di Rex diventa una vera e propria ossessione. Inizia a cercare forum in cui vengono postati video di persone che si tolgono realmente la vita impiccandosi. Si chiede quale morte sia più simile a quella di Rex. Amanda si perde in rete. Diventa sempre più ossessionata dall'internet e dal macabro. Passa giornate e nottate intere attaccate al computer a vedere contenuti macabri e pesanti. Amanda prova a prendersi cura dei suoi figli, ma ormai non ci riesce. La famiglia di Amanda, quindi, si prende cura di Damien e di Delia, i suoi figli. Mentre la ragazza si perde sempre di più in un mondo virtuale fatto di morte e distruzione. Amanda inizia a pubblicare su Facebook immagini e frasi molto, molto cupe. E la sua presenza online attira l'attenzione di altre anime tormentate. Come quella del 32enne Sean Ball, che peraltro vive vicino a lei, a Christiansburg, in Virginia. Sean contatta Amanda su Facebook. I due cominciano a parlare tutti i giorni e di conseguenza, ben presto, diventano amici. Sean dice ad Amanda di essere stato nei Marine. E Amanda ne approfitta. Gli chiede immediatamente. Sei un ex soldato, no? Quindi hai ucciso delle persone. Sono interessata. Voglio che mi racconti tutto. Sean racconta ad Amanda la sua esperienza. Sì, ha dovuto sparare a degli uomini. Ha dovuto uccidere degli uomini. La ragazza è sempre più interessata. Amanda passa molto tempo a parlare con Sean. Così, ben presto, i due stabiliscono un forte legame, seppur solo virtuale. Sei mesi dopo la morte di Rex, Amanda invita Sean ad una serata in cui sono presenti anche tutti i suoi amici. Stanno guardando un film tutti insieme. E quando gli amici di Amanda notano il modo in cui la guarda Sean, capiscono immediatamente che il ragazzo è innamorato, cotto, di lei. Sean racconta episodi macabri di quando era in guerra solo per far colpo su Amanda. Le dice che sa staccare la testa di un uomo a mani nude. E Amanda, al posto di spaventarsi a morte, trova la cosa eccitante e divertente. Arriva il 27 marzo del 2015 ed è il compleanno di Amanda e Rex. Quello è il primo compleanno che Amanda passa senza avere accanto Rex dopo anni. La ragazza, con i suoi amici, è onesta. Dice chiaramente a tutti che non sa come reagirà. Forse, potrebbe non superare quella notte. Potrebbe tentare di farla finita. Quella sera Amanda vuole andare a trovare Rex al cimitero. Ed è in effetti ciò che fanno lei e i suoi amici. Tutti insieme quindi si recano alla tomba di Rex. Amanda inizia a piangere e ripete Voglio stare con lui. Le sue amiche le rispondono Ma Amanda, stiamo andando a trovarlo. Amanda ribatte Io voglio stare con lui. Quando arriva davanti alla tomba di Rex Amanda si inginocchia e piange. Poi perde il controllo. Estrae un coltello dalla borsa e tenta di tagliarsi la gola sulla tomba di Rex. I suoi amici cercano di fermarla ma lei inizia ad urlare Lasciatemi stare Lasciatemi andare con lui Vi prego Fatemi andare da Rex Perché non mi fate andare da Rex? Gli amici di Amanda in qualche modo riescono a prenderle il coltello Poi contattano suo zio Matthew È così che tramite Matthew Amanda finisce in ospedale Al Carrion Clinic St. Albans Hospital Nella contea di Montgomery Amanda viene ricoverata e tenuta sotto controllo Perché ha tendenze a suicide Dovrebbe rimanere in ospedale per 5 giorni ma passate le prime 48 ore vuole già andarsene Prova a chiamare tutti i suoi amici per chiedere ospitalità Ma nessuno accetta di farla uscire dall'ospedale Nessuno Tranne Sean L'uomo non ha idea dei problemi che affliggono Amanda Forse non li ha notati Forse finge di non notarli Resta il fatto che Sean va a prendere Amanda in ospedale e la ospita a casa sua Il punto è che Amanda non è lucida Avrebbe davvero bisogno di stare in una clinica psichiatrica Quindi la cosa più giusta per lei sarebbe rimanere in quell'ospedale E per quanto mi riguarda 5 giorni sono una bazzecola Amanda avrebbe dovuto fare un enorme percorso per riprendersi Per rielaborare il lutto di suo marito in modo corretto Cosa che Amanda non ha avuto occasione di fare Tutto il dolore che sente per la perdita di Rex ben presto si trasforma in rabbia Infatti Amanda pensandoci bene realizza che tutto è cominciato a causa del padre di Rex Se non gli avesse mai dato quelle pillole a soli 15 anni forse Rex sarebbe ancora vivo E' a questo punto che Amanda realizza di voler togliere di mezzo Charles Lo vuole uccidere Amanda vuole fare giustizia per Rex Sean dal canto suo non fa nulla per farle cambiare idea Vuole far colpo su Amanda di conseguenza fa tutto il necessario per farsi notare Deve comprare delle munizioni Non c'è problema Deve andare dai suoi genitori per rubare delle armi Delle pistole Non c'è problema Deve uccidere un uomo per Amanda Deve aiutarla a farlo Anche in questo caso Non c'è problema Sean Non si pone alcuna domanda Non si ferma mai Non si chiede se quello che sta per fare sia un'enorme stronzata o meno Sean La fa E basta Il ragazzo infatti dopo qualche ora torna da Amanda con un paio di pistole e delle munizioni Il 4 aprile del 2015 i due sono pronti a colpire Quindi vanno a casa di Charles a Ellet Amanda quindi bussa entra in casa di Charles si siede accanto a lui sul divano e gli chiede preoccupata Come stai? Charles è distrutto Non riesce a superare la morte di suo figlio ma soprattutto si sente molto in colpa Amanda lo ascolta fingendo compassione lo abbraccia e gli dice che le dispiace che non è colpa sua poi lo colpisce e non con una pistola ma con 30 coltellate Mentre Amanda sta colpendo con il coltello Charles Sean non rimane certo con le mani in mano prende un piede di porco e inizia a darlo sulla testa a Charles Amanda e Sean dopo aver commesso il delitto scappano mentre il vicino di casa di Charles chiama la polizia L'uomo infatti ha sentito dei rumori un po' sospetti è andato a casa di Charles e l'ha trovato senza vita in salotto I detective mettono subito in sicurezza la scena del crimine chiamano la scientifica e poi iniziano anche loro a cercare indizi Le autorità dunque fanno un giro in casa vanno al piano di sopra ed è lì che trovano il padre di Charles Taylor un uomo disabile di nome Alan Taylor e Alan in effetti dal secondo piano ha sentito tutto perfettamente dalle voci che aveva sentito era riuscito solo a riconoscere una ragazza che era entrata in casa Amanda Taylor ma assicura ai detective che non era sola con lei c'era anche un uomo intanto Amanda e Sean cambiano le schede SIM dei loro cellulari prima di continuare il loro tragitto verso il Tennessee non essendo in grado di rintracciarli i detective controllano le attività online di Amanda Taylor le autorità hanno in mano tutti gli account social di Amanda Taylor cominciano così a cercare qualche indizio e in prima battuta i detective trovano delle foto dei bambini dei figli di Amanda e in effetti Amanda è stata descritta ai detective come una madre tutto sommato amorevole poi però arriva un momento in cui i detective trovano un post Amanda si è fatta un selfie un autoscatto è sorridente con il coltello del delitto in mano ancora insanguinato e il corpo di Charles Taylor sullo sfondo nella descrizione della foto Amanda ha scritto l'ho fatto per Rex e sono orgogliosa amo i miei figli ma Charles ho ucciso mio marito i detective da quel post capiscono immediatamente che Amanda non ha rimorsi e non dà valore alla vita umana una persona che non dà valore alla vita umana è imprevedibile è capace di tutto anche gli amici di Amanda quando apprendono la notizia pensano che Amanda abbia appena iniziato dopo la rivelazione trovata online del coinvolgimento di Amanda Taylor nell'omicidio di suo suocero i detective chiaramente cercano disperatamente di rintracciarla e sembra assurdo ma mentre cercano di capire chi sia Amanda Taylor i detective trovano tantissime corrispondenze con diversi serial sul suo blog di Tumblr pare che Amanda sia arrivata al punto di voler diventare una serial vuole essere ricordata vuole essere famosa vuole essere riconosciuta da altri social i detective riescono a identificare il secondo soggetto che è con Amanda un uomo di nome Sean Ball quell'uomo sostiene di essere stato in marina e di aver partecipato ad alcune missioni speciali per l'esercito la maggior parte dei suoi post sono di natura oscura il suo profilo è pieno di immagini di stragi decapitazioni e persone assassinate i detective a questo punto sanno chi stanno cercando ma temono che la storia non si concluda con un solo singolo omicidio anche loro temono che questa possa essere l'inizio di una strage in questo momento la famiglia di Rex non sa a cosa pensare né a cosa credere finché finalmente Amanda contatta la madre di Rex Melissa la ragazza dice alla madre di Rex ho ucciso Charles l'ho pugnalato a morte l'ho fatto per me per te e per Rex questa è la nostra vendetta è stato Charles a rovinarlo lo sai? Melissa chiaramente senza parole dice ad Amanda oh mio dio Amanda ma che cosa hai fatto? Amanda risponde a Melissa sto andando in un posto in cui siamo sempre voluti andare con Rex poi chiude la chiamata anche Melissa è convinta che Amanda voglia uccidere altre persone quindi chiama la polizia e riferisce i detective tutto ciò che si sono dette per telefono il dipartimento dello sceriffo rilascia un mandato di arresto per Amanda Taylor e Sean Ball e fa partire le ricerche per tutto lo stato nel frattempo Amanda e Sean percorrono la Blue Ridge Parkway dalla Virginia verso la Carolina del nord si fermano in Tennessee per comprare delle munizioni e passano la notte in un motel di Gatlinburg nel Tennessee per l'appunto i due sono in camera e stanno lucidando le loro pistole Amanda chiede a Sean quanti proiettili abbiamo dopo la spesa che abbiamo fatto? Sean le risponde ne abbiamo parecchi non preoccuparti a questo punto Amanda dice voglio uccidere tutti gli uomini oltre i 60 anni come Charlie Sean la guarda e ribatte e come pensi di riuscirci? chiede a tutti la carta di identità prima di sparare o vai ad occhio? Amanda fissa la pistola e risponde sai? non lo so e non mi interessa io voglio solo uccidere delle persone io voglio uccidere tutti arriva il 5 aprile del 2015 quando Amanda e Sean ripartono sono armati e pronti a mietere altre vittime intanto a Christiansburg i detective fanno una scoperta Sean in realtà ha una specie di doppia vita non è mai stato nell'esercito né nella marina è tutto falso è tutto inventato si è inventato tutto questo solo per piacere in qualche modo ad Amanda parlando con lei ha solo intuito le sue passioni e le sue ossessioni quindi ha finto di essere un'altra persona per avere mezza chance con lei certo Sean è un tipo oscuro con pensieri macabri ma non è ai livelli di Amanda Sean dunque in breve non è chi dice di essere e infatti ben presto inizia ad avere ripensamenti riguardo la strage che vorrebbe fare Amanda inizia a dirle Amanda sai forse dovremmo nasconderci forse dovremmo toglierci di mezzo possiamo vivere in strada nessuno ci troverà Amanda risponde sì che ci troveranno Sean taci stai zitto seguiamo il piano devi dimostrarmi di essere disposto a continuare Amanda si guarda intorno e nota un gruppo di ragazze che stanno correndo tutte insieme le supera accosta e poi dice a Sean le vedi quelle là voglio che spari a tutte devi dimostrarmi che sei in grado di farcela io le attiro qui e tu le ucciderai Amanda quindi esce dall'auto ferma quelle donne le attira verso la sua macchina ma Sean alla fine si tira indietro e Amanda si infuria è così arrabbiata che sale sull'auto mette in moto fa mezzo chilometro accosta di nuovo esce dalla macchina e poi inizia ad urlare a Sean esci dalla macchina ora ho detto esci apri la sua portiera lo spinge a terra gli punta addosso una pistola e prima di sparargli in testa pronuncia queste parole voglio che tu sappia che ti ho usato per le tue pistole e che ti voglio morto Amanda si fa un altro selfie su quest'ennesima scena del crimine pubblica di nuovo la foto sui social e scrive tutto quello che ho fatto è stato per le giuste ragioni ho coltellato a morte il mio suocero perché ha distrutto mio marito con le sostanze e con la depressione non ero la moglie perfetta ma questa era l'ultima cosa buona che potevo fare per Rex non mi interessa cosa pensano gli altri quelli che non hanno amato Rex quanto lo abbia amato io che ne sanno questo Rex era per te dopo Charles ho chiuso se continuate a cercarmi altri moriranno fatemi solo arrivare al posto in cui Rex ha sempre voluto andare e sarò libera non dovrò più uccidere marciremo insieme io e te Rex Amanda quindi che cosa dice in questo post? beh esprime praticamente la voglia di suicidarsi dice voi lasciatemi perdere tanto con Charlie ho finito non voglio fare altro se mi rompete le balle qualcun altro morirà ma se mi lasciate in pace tranquilli io andrò solo in un posto ben preciso e mi toglierò la vita perché io voglio unirmi a Rex qual è il problema? il problema è che poco dopo Amanda chiama il dipartimento di polizia di Christiansburg e i detective quando sentono la sua voce si gelano il detective che risponde alla chiamata si rende conto che potenzialmente potrebbe davvero salvare molte molte vite perché Amanda è imprevedibile il detective dal suo tono di voce capisce che è stressata è arrabbiata e pare anche confusa quindi prova a darle un senso di sicurezza di comprensione e le dice stai bene? posso fare qualcosa per te? Amanda risponde beh è facile io mi sono persa devo tornare in Virginia ma non so dove diavolo sono il detective le risponde ok ti possiamo aiutare rimani calma e resta al telefono con me ti aiuteremo a tornare il più velocemente possibile qual è l'ultima cosa che ti ricordi? hai incrociato un benzinaio o un negozio particolare? Amanda risponde sì in effetti mi pare di aver oltrepassato un benzinaio il detective ribatte ricordi se hai oltrepassato dei binari? hai visto qualche indicazione stradale? Amanda risponde no non credo di aver oltrepassato dei binari e per quanto riguarda le indicazioni non saprei ma di certo ho superato Greensboro i detective dunque scoprono che Amanda si trova nella Carolina del Nord a questo punto i detective della Virginia contattano i detective di Greensboro avvisandoli del pericolo dovrebbe esserci in giro una ragazza armata e pericolosa i detective della Virginia parlando al telefono con Amanda riescono in qualche modo a indicare la strada ai detective di Greensboro che dopo non troppo tempo trovano Amanda la ragazza nel frattempo non si è spostata di mezzo millimetro la polizia a questo punto arriva dietro la macchina di Amanda in chioda due agenti escono puntano la pistola verso Amanda e urlano metti immediatamente le mani sul volante Amanda pur avendo ben due pistole in macchina si arrende i detective l'arrestano ma non sanno anche ora che fine abbia fatto il suo complice in ogni caso i detective arrestano Amanda la portano in centrale e tramite un interrogatorio riescono a ripercorrere i passi di Amanda trovando il corpo di Sean è vero Amanda gli ha sparato in faccia ma incredibilmente Sean è ancora vivo quando viene trovato dunque viene portato in ospedale mentre Amanda viene presa in custodia un detective durante un interrogatorio dice ad Amanda comincia raccontandomi tutto quello che è successo quando eri da tuo suocero Amanda risponde quando sono arrivata piangeva e si lamentava per Rex e mi ha detto quanto era triste ho iniziato ad accoltellarlo ho provato ad accoltellarlo forte in mezzo al petto probabilmente ci saranno delle ferite da difesa sulle braccia e si credo di averlo preso anche in faccia il detective ribatte quando lo hai pugnalato cosa ha fatto Sean Amanda ribatte lo ha colpito in testa con un piede di porco sa ho ucciso Charles alle 3.27 e l'ho fatto di proposito quello è il giorno mio di Rex è il nostro compleanno noi siamo nati proprio lo stesso giorno tutti e due siamo nati il 27 marzo ai detective Amanda dice di voler la pena di morte però all'inizio del processo decide di dichiararsi non colpevole però le prove che emano l'accusa sono alquanto importanti sono molto forti hanno le confessioni di Amanda la sua foto col corpo della vittima le interazioni con i suoi amici e infine le confessioni che ha fatto tramite i suoi account social anche Chris Hertz il presentatore e giornalista della WBDJ una stazione televisiva affiliata alla CBS testimoni al processo Chris aveva contattato Amanda Taylor per un'intervista la ragazza aveva accettato di fare questa intervista e alla fine Amanda aveva parlato per circa un'ora e mezza in quell'intervista Amanda descriveva come era stato uccidere Charles Taylor sosteneva che quell'esperienza fosse stata per lei come il primo giro in assoluto sulle montagne russe la donna infatti aveva detto a Chris Hertz e recitata so che suona male ma ero davvero entusiasta so che non è giusto ma era qualcosa che ho scelto di fare per sentirmi meglio Amanda Taylor continuava a dire a Chris che aveva scelto di pugnalare a morte Charles perché parole sue questo è stato un omicidio personale ed io volevo vederlo morire la difesa non nega che Amanda abbia ucciso Charles anche perché è un po' complicato negare l'evidenza ma ritiene che il fatto sia giustificato perché tenetevi forte l'amore può essere potente e travolgente io vi giuro che quando ho letto questa tesi della difesa ho detto ma cosa sto leggendo ma davvero hanno detto questo arriva il 12 dicembre del 2015 e la giuria ci mette 30 minuti per dichiarare Amanda colpevole di omicidio di primo grado viene condannata all'ergastolo senza possibilità di condizionale Sean Ball invece si è dichiarato colpevole di omicidio di primo grado viene condannato a 60 anni con la libertà vigilata dopo 41 anni che cosa vuol dire? vuol dire che Sean sconterà 41 anni in prigione e poi sarà messo in libertà vigilata per 10 anni probabilmente fino alla sua morte c'è da dire però che Sean durante il processo esprime parecchio rimorso in particolare per la famiglia di Charles Taylor e per la sua famiglia confessa di aver colpito Charles al capo per 5 o 6 volte con un click mentre Amanda lo stava pugnalando Sean prima del diritto aveva promesso ad Amanda che se lei avesse ucciso qualcuno per davvero sarebbero scappati insieme Sean promette di non abbandonarla di non lasciarla sola e in effetti Sean ha mantenuto la sua parola è scappato con lei ma lui a quanto dice a differenza di Amanda non voleva ferire nessun altro molti amici di Amanda sostengono che tutta la violenza che la ragazza aveva visto ininterrottamente sul web avesse davvero preso il sopravvento Amanda al contrario di Sean non si è mai pentita delle sue azioni ancora oggi non è pentita e a processo dice queste esatte parole non ho assolutamente alcun tipo di rimorso per quello che ho fatto a Charles Taylor ho fatto esattamente quello che volevo fare il 30 agosto del 2016 durante una seduta con uno psicologo del carcere Amanda dice quel sito quando lo guardi tutto il giorno e gran parte della notte ti dà quella spinta per farlo quando vedevo i video di una persona che ne uccideva un'altra vedevo quel potere nel volto e volevo avere quel potere per togliere la vita a Charles i figli di Amanda e Rex Damien e Delia stanno crescendo con la famiglia di Amanda c'è da sottolineare che davvero Amanda ha cercato di incolpare Charles per la morte di Rex quindi il suo omicidio in qualche modo è giustificato? assolutamente no la verità è che Amanda ha felicemente ucciso Charles ha cercato di uccidere Sean e avrebbe ucciso tante altre persone se ne avesse avuto l'opportunità fortunatamente Amanda Taylor trascorrerà il resto della sua vita in carcere detto questo ragazzi io ho finito di parlare in questo video spero che questo caso possa essere stato di vostro gradimento lo conoscevate? onestamente la cosa che più mi ha colpito sono i selfie sulle scene del crimine ve lo giuro quando ho sentito questa cosa ho detto ma sul serio e l'ha pubblicato sui social ma davvero forse poi sono io che mi stupisco per nulla è possibile però sono curiosa di sapere la vostra opinione quindi potete scrivere quello che volete qui sotto nei commenti detto questo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fatti i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ciao ragazze ciao ragazzi ciao a tutti Grazie a tutti.